segui la 7 anche su instagram la 7 ovunque con te direttore fontana lei cosa consiglierebbe ad esempio a letta di continuare a insistere nella costruzione di questo campo largo con i cinque stelle oppure di guardare altrove in qualche modo poi subito dal direttore fontana certamente anche riguardare altrove solo che adesso fa fatica perché buon letta evoca il campo largo dall'inizio però è chiaro che con queste posizioni di conte farà ancora più fatica ma è per questo che guardate io ho parte in causa poi ma da lettore esterno io consiglio come mi sono espresso devo dire da tempo in maniera molto chiara per un proporzionale perché con un sistema maggioritario non credo che ad oggi il pd riesca a mettere in piedi questo campo largo di cui parla e lei ha preso in considerazione sindaco il consiglio di matteo renzi che le suggerisce direi per l'ennesima volta di scendere in campo scendere in campo ormai non si può più sentire ma insomma questa è la formula rituale che si usa da milano si può dire a milano forse si dice ancora così la leadership di una forza politica nazionale quante volte gliel'avranno chiesto oggi io cerco di sempre di essere non so ci riesco ma onesto genuino e di della verità e la verità è che a me è chiaro che la politica in senso largo interessa e quindi questo l'ammetto ma non è il mio tempo cioè sono stato rieletto da nove mesi quindi non è il mio tempo credo che in questo momento io debba ai milanesi il fatto di cercare di guidare milano in un momento difficile poi si vedrà ma poi si vedrà in politica nella vita luciano fontana fontana direttore